e riviusi a smr ciao a tutti benvenuti come state? spero tutto bene oggi super video food con 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 i baci di Tama sì 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 baci di Tama baci 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 di Tama eccoli qua ragazzi eccoli eccoli qua i baci di Tama ragazzi dove è andato a finire l'altro? eccolo qua benissimo ragazzi però saranno accompagnati perché se no mi impasto la bocca mamma mia mi stava arrubaltando tutto saranno accompagnati da il mio tè bevuto da questi due bellissimi bicchieri che farò anche un video con i drinking prossimamente ok baci di dama 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 e il gatto l'ho chiuso di là perché se no viene a fare il disastro e allora l'ho chiuso di là perché se no mi viene a rubaltare tutto allora cominciamo ok ragazzi go ciao ragazzi l'ho lasciato di là sennò mi viene mi robata tutto quanto a si non il ci si si Grazie a tutti. Buonissimo 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 ok 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 bene ragazzi grazie a tutti per aver visto questo video video appuntamento alla prossima ciao